E' ormeggiato nel porto dell'Arenella a Palermo e in poche ore è diventato una vera attrazione. E' lo yacht Ocean Pearl, una meraviglia argentata di 41 metri dalla linea futuristica che ricorda quella di uno squalo. Progettata dai cantieri navali Rodriguez, la barca rapisce i suoi ammiratori con la sua scala a chiocciola realizzata in vetro e costruita in modo tale da far passare la luce. Questa reggia galleggiante, appartenente alla flotta della Yacht Plus, che può contare su un'imbarcazione gemella, la Ocean Emerald, non è però alla portata di tutti. Una delle otto quote acquisibili in multiproprietà infatti costa 1.850.000 euro e chi la sottoscrive per otto anni si garantisce la possibilità di effettuare crociere esclusive tra il Mar Mediterraneo e i Caraibi per un periodo di circa 30 giorni l'anno. Roba da paperoni insomma. Al suo interno il lusso la fa da padrone comunque. 5 suite per 12 ospiti, un equipaggio di 7 persone, massima flessibilità degli spazi interni, luminosità a bordo, continuità tra interno ed esterno. Difficile sapere chi sia il fortunato che ha scelto Palermo come tappa della sua crociera.